Ora vorrei raccontarti una breve storia. Da un po' di tempo ho cominciato a frequentare delle lezioni di Pilates per cercare di mantenere il fisico in forma e la postura corretta e l'insegnante ha detto una cosa molto interessante. Il Pilates è una disciplina che ha come scopo il controllo del corpo, non il rafforzamento, il controllo del corpo, dei movimenti e dei muscoli. È una cosiddetta ginnastica posturale, cioè una ginnastica che si concentra soprattutto sugli addominali e sulla schiena perché sono le colonne portanti del nostro corpo. Chi suona uno strumento si è già da tempo accorto che un prolungato studio e quindi una postura potenzialmente scorretta porta a gravi patologie col passare degli anni. Quindi il Pilates è un buon modo per correggere queste posture. Durante una lezione questo insegnante ci ha consigliato di eseguire l'esercizio che stavamo facendo molto lentamente. Ci ha spiegato che solo eseguendo gli esercizi molto lentamente si può acquisire il controllo del corpo e dei suoi movimenti. In questo modo abbiamo una maggiore capacità di ascolto dei segnali che arrivano dai muscoli che sono interessati da quell'esercizio. Possiamo quindi capire se stiamo usando consapevolmente i muscoli giusti o inconsapevolmente quelli sbagliati. Dall'analisi di questi feedback possiamo correggere gli errori e capire se stiamo usando solo i muscoli giusti. Ha poi concluso con una frase che mi ha proprio lasciato di stucco. Il nostro corpo si muove nel migliore dei modi solo quando c'è relax. Ti suona familiare? È inutile dirti quale enorme lampadina si è accesa nel mio cervello. Ma non è forse questo ciò che facciamo quando studiamo una nuova tecnica per il nostro strumento? Ma quello che pochi di noi fanno è l'ascolto consapevole del proprio corpo. Beh, ora che ti ho dato giusto un accenno potrai cominciare a farci caso anche tu se non lo stai già facendo. Ma non è finita qui. L'insegnante di Pilates ha detto un'altra cosa importantissima. Ha detto che per la perfetta riuscita di un esercizio è fondamentale la respirazione. Infatti l'ispirazione durante la preparazione di un esercizio e l'espirazione durante lo sforzo determina il ritmo dell'esercizio. Boom! Quindi riassumendo quello che ha detto l'insegnante è per eseguire correttamente un esercizio bisogna farlo lentamente per acquisire la consapevolezza del corpo e poi tenere un ritmo molto lento per le ripetizioni successive attraverso la respirazione. Pensa che ho persino notato che durante l'esercizio l'insegnante ci scandiva il tempo di esecuzione contando lentamente fornendoci quindi una sorta di ritmo metronomico. O magari la mia è una deformazione professionale. Quello che voglio dirti in conclusione è che quello che noi dobbiamo fare con il metronomo è considerarlo semplicemente un valido strumento che ci può aiutare enormemente in fase di studio. Infatti noi che suoniamo musica dobbiamo per forza fare riferimento al tempo. Che sia esso più o meno rigido, a seconda se suoniamo pop o jazz o classica, comunque è un fattore imprescindibile. Quindi in fase di studio ma anche in fase di esecuzione non è che possiamo fare così riferimento alla respirazione come scansione ritmica perché se siamo un po' agitati per qualsiasi motivo la nostra respirazione aumenta o se ci rilassiamo rallenta. Quindi è un riferimento troppo flessibile. È chiaro che dobbiamo controllare la nostra respirazione mentre suoniamo, altrimenti andiamo in iperventilazione se respiriamo troppo velocemente, per esempio. A me è capitato. Perciò se noi usiamo il metronomo costantemente come riferimento, ci eviteremo per esempio di accelerare, che è una cosa tipica che fanno le persone quando invece di concentrarsi sul corpo si concentrano solo sulla velocità esecutiva come risultato. Oppure nel caso di chi rallenta, che è tipico di chi pensa troppo mentre suona e quindi comincia ad avere irrigidimenti muscolari e conseguente perdita di relax. Quindi il metronomo è il nostro dispensatore di feedback. Dobbiamo ascoltarlo quando studiamo da soli perché in questo modo impareremo meglio a controllare il nostro corpo usando solo i muscoli interessati all'esecuzione della tecnica che stiamo studiando, per esempio. E poi ci aiuterà a mantenere il relax e la respirazione costante e controllata. Nessuno di noi è dispensato dal farlo, a prescindere dallo strumento che suona. Vorrei lasciarti con una considerazione e un compitino da fare. Prova a far caso al portamento del tempo, detto in gergo timing, dei tuoi idoli quando li ascolti o quando vedi qualche loro video su YouTube. Capirai che questo è il fattore fondamentale su cui ognuno di loro ha lavorato in maniera maniacale. Infatti io la definisco una priorità discriminante per il musicista intelligente. Bene, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, se consideri il messaggio contenuto in questo video interessante da discutere con i tuoi colleghi, condividi questo video con loro e fammi sapere nei commenti sotto. A me farebbe molto piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Ruggero.